La missione evangeliciatrice della Chiesa è essenzialmente annuncio dell'amore, della misericordia e del perdono di Dio rivelati agli uomini mediante la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. I missionari hanno servito la missione della Chiesa, spezzando ai più piccoli e ai più lontani il pane della parola e portando a tutti il dono dell'ineusaribile amore che sgorga dal cuore stesso del Salvatore.